Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo TG informativo su Brawl Stars. Ragazzi, questa mattina vi ho riportato in tempo reale l'uscita dell'aggiornamento versione iOS e Android appunto del titolo della Supercell. Al termine di questo video venite tutti sul canale di Twitch perché saremo in live per provare questo aggiornamento fino alle ore 15. Vediamo un po' tutto quello che è successo con questo aggiornamento, direttamente dal post della Supercell su Ready.com. L'aggiornamento è disponibile, è stato aggiunto Eugenio Il Genio, un nome veramente molto particolare, sarà praticamente attivato. Si parla di metà febbraio, prima, seconda settimana di febbraio, però è già contenuta all'interno dell'aggiornamento. La sua Super sarà la possibilità di utilizzare una mano che uscirà a quanto pare dalla lampada e attirerà verso di noi l'avversario. Gli toglierà veramente tantissimo, l'abbiamo visto praticamente ieri sera con i danni da 1.400 a botta, però era praticamente maxato. Andiamo a vedere che altro c'è, o meglio che cosa c'è al suo interno. Nuove skin per Spike, Daryl, Pocho, Nico e Colt. Nuove skin che arriveranno a brevissimo, quindi il Dumpling Daryl, Lion Dance Brook, Royal Agent Colt, Football Ball che avevamo visto nel talk appunto di Supercell, Serenade Pocho e Popcorn Rico. Poi ci sarà l'evento lunare con l'introduzione di tre skin il 31 gennaio 2019. All'interno di Brawl Ball due importanti modifiche. La prima che quando praticamente lanciamo avanti la palla, quindi spariamo, ci consumerà un pezzo di stamina, quindi almeno non avremo mai sempre tutta la barra completa, quindi dovremmo stare attenti a sparare o meglio a lanciare la palla. E l'altra cosa, i Brawler adesso sponeranno davanti la porta, non più dietro perché hanno tolto tutta la parte che sta dietro alla parte appunto di Brawl Ball. Poi modifiche alle varie modalità, le più interessanti è sicuramente in sopravvivenza duo, il respawn è stato incrementato di due secondi ed entra a rapina adesso, è stata incrementata la salute da 30.000 a 36.000 per quanto riguarda appunto la banca, quindi il tesoriere. Poi altre cose molto interessanti, miglioramento alle performance, alla chat, ai clan, un miglioramento al negozio, miglioramenti anche per quanto riguarda le classifiche e settaggi migliori appunto per quanto riguarda le leaderboards nei settaggi e cosa molto interessante è l'introduzione di una nuova mappa che andremo a giocare praticamente adesso appena terminerà il video su Twitch, sul nostro canale di Twitch e poi modifica i personaggi che vi avevo già svelato nei giorni passati, tutti potenziati tranne Leon. Ad esempio avete in Ita l'attacco è migliorato dal 300 al 500, per quanto riguarda Brook il danno al secondo passa da 240 a 300, stesso discorso per Bo. Anche il primo passa dai 600 agli 800, potenziato anche Beryl, Pocho, qui state vedendo tutti gli incrementi senza che vi li riporto in dettaglio. Ad esempio Pocho passa da 400 a 450, Leon invece potete vedere decremento dell'invisibilità da 10 secondi a 8 secondi, anche l'attacco principale da 500 a 4 e 60, non un depotenziamento esagerato però lo sono andati a modificare. Mortis è stato incrementato principalmente per la modalità Brawl Ball perché lui praticamente si riuscì a mandare avanti la palla e era uno dei personaggi più utilizzati per nerdare in quella modalità, anche Frank è stato potenziato. Questo tutto il changelog completo dell'aggiornamento che è arrivato questa mattina per Brawl Stars, il titolo della Supercell. Torneremo sull'argomento non appena avremo anche nuovi gameplay di Eugenio il Genio, il nuovo brawler in arrivo appunto all'interno del gioco, già contenuto all'interno dell'aggiornamento, è soltanto da attivare. Qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate e ci vediamo fra poco in live su Twitch amante-ynt per provare tutti i dettagli di questo aggiornamento. Ci vediamo a fra poco.